La parola immagina è molto più efficace della parola sogno. Mi impegno molto per insegnare a usare un linguaggio che funziona, ma è altrettanto importante sapere cosa non bisogna mai dire. E vi farò un esempio. Non intendo fare nessuna critica, ma parlare di sogni fa parte della cultura di Amway. I sogni sono validi, i sogni sono importanti. Quando le persone sognano qualcosa sono indotte a voler realizzare quel sogno. Ma la parola immagina è molto più efficace della parola sogno. Per definizione un sogno non è reale, può essere motivo di ispirazione, ma non è tangibile, non potete toccarlo. Immagina invece mette le persone nella condizione di visualizzare se stesse dove vogliono essere. Se immaginano il denaro che vogliono guadagnare o il tempo che vogliono avere, questo le metterà in una condizione tale da permettervi di avvicinarle come prospect. Quindi fate un favore a voi stessi. Usate un po' di più la parola immagina e un po' meno la parola sogno. Grazie.